Salve a tutti ragazzi sono Sean e benvenuti in questo unissimo video Oggi dopo tantissimo tempo siamo tornati finalmente con un nuovo video su questo canale youtube E' un pochettino che appunto non carichiamo video ma comunque è perché ci metto il video su twitch ultimamente Quindi tutte le stream che prima facevamo su youtube adesso le facciamo lì Il link è dato in descrizione, vi sto pure spuntato qua in sovraimpressione Vi invito ad andarvi a iscrivervi perché siamo spesso in live, spesso giochiamo a zombie Reagiamo ai trailer, parliamo, discutiamo e cose e altre cose Oggi appunto voglio parlarvi di quello che è stato annunciato ieri sul canale youtube di Call of Duty Ovvero del trailer di Call of Duty Cold War Zombies Un trailer che ci ha mostrato tantissime nuove novità e ci ha fatto capire molte cose su quella che sarà la prossima storia Oggi voglio commentare sia il cinematic trailer che anche il reveal trailer in sé Mostrarvi quelle che sono state le novità e parlarvi anche in quella che sarà la storyline Partiamo con quelle che stanno le novità Abbiamo visto moltissime cose nuove e moltissimi ritorni in questa appunto nuova storia zombie In questo nuovo capitolo di zombie Abbiamo visto ovviamente tornare la Reigan, abbiamo visto tornare il Paka Punch, tornare i perk Però la particolarità come avete ben visto è che tutte queste cose che torneranno sono leggermente modificate A parte la Reigan magari e queste cose qua Persino l'orsacchiotto è all'interno della cassa Non è più un orsacchiotto ma è un peluche a forma di coniglio Questo qua secondo me è una discussione di cui dovremo parlare successivamente quando parliamo della storyline Perché io ho fatto moltissime teorie su Twitch scorsa volta Che state avendo in questo momento Secondo me è questa la teoria che mi sto facendo io Potrebbe essere plausibile Però è una teoria, quindi non è niente d'ufficiale Quindi lo dico per quelli che sono in live Non si muovagna Questo è quello che penso io Allora secondo me è così Siccome comunque se tu crei un universo che è la copia dell'altro Essenzialmente sono simili tra di loro Giusto? Cambia semplicemente Cambia, cioè muta in base ai avvenimenti che ci sono in quell'universo Giusto? Lo so un po' che è come l'effetto farfalla Se succede una cosa è giusto No non l'effetto farfalla, quello di Dark di Netflix Che è il destino Il destino è scritto e quello che deve succedere succede Punto e basta Capito? Eh Secondo me Tipo Il fatto che si andati su quell'altro universo nuovo Che comunque è speculare a quello precedente Quindi è molto simile Ma è influenzato da eventi diversi Si fia che comunque Anche se i zombie non sono nati diciamo nella seconda guerra mondiale Sono nati qualche anno dopo Perché è scritto nel destino dell'universo Essendo una copia di quello là Ma con eventi diversi e con persone diverse Non si può annullare quello che doveva succedere Capito? Non è questo il discorso Non mi ricordo se era una copia Rick mi sai te lo può dire Allora La giornata è quello che dici Capisco il concetto Solo che tecnicamente Tecnicamente Hanno fatto tutto sto troppo Di bella raga L'universo Indipendentemente dalle tue azioni Saranno sempre le stesse E fa schifo Farà sempre schifo Questo tecnicamente L'hanno già fatto con tutto il ciclo di Black Ops 3 No ma è diverso Perché Sono due teorie diverse Perché tu ti sei visto Dark? No Ecco Se tu ti guardi Dark La teoria tipo Non è quella tipo Dell'effetto farfalla Che tu cambi una cosa nel passato E nel futuro Irimediamilmente Tipo succede qualcosa Tipo anche la morte di una formiga Può cambiare tutto il destino dell'universo Capito? Sì sì lo so Invece In quest'altra teoria Che molti dicono Che sia più plausibile È che Tipo È già tutto scritto Motivo per cui Una cosa che Tipo Se in un universo è giusto Se tu uccidi Hitler Giusto Prima che lui Cominci a Prendere potere Magari Il fascismo Non esiste più nel 1940 Nel 1939 In quegli anni là Ma Tipo magari poi Negli anni 70 Sale Un altro Fascismo C'è un altro Un altro dittatore di destra Attentato Che comunque È infanzato Altrettanto appunto Nella storia E qui tipo La seconda guerra mondiale Possiamo combattere Nel 1945 Si combatte nel 70 Quello che posso dire io È che Un'altra teoria Che mi sono fatto Però ragazzi Sono tutte cose Che non succederanno mai Sono cose che mi faccio io In mente In base di POA Comunque Alle teorie Dell'universo Che esistono Tipo in giro Su internet Su le serie Tipo e cose così Potrebbe anche essere Tu l'avresti detto Che è finito Che sarebbe finita Su Tag der Toten Su Call of the Dead La storia zombie No Per cui Non è inutile Fare previsioni Comunque Una cosa che è possibile È che secondo me Magari quando si è aperto Il barco Il barco Per far entrare appunto Nell'universo nuovo A Samantha e Eddie Magari Insieme a loro C'era Qualcosa che non ci doveva essere Il cameraman Esatto Il cameraman Era Era Il servito raportico Anche l'insegnato dietro Era Era Romero Era Il cameraman Metti Metti tipo Che ne so Che c'era veramente Qualcosa tipo Che non ci doveva essere L'è in mezzo Si è infiato in un universo Tipo un apodico Una cosa del genere L'universo Essendo un residuo Del precedente universo Della vecchia Eter story È normale che ci siano Delle cose che siano Uguali Ma allo stesso tempo Diverse Possiamo vedere che infatti Il juggernaug esiste Ma non è più Con la forma di un tempo Non è più una bibita Ma è appunto Una lattina E via dicendo È tutto un pochettino Modificato e frammentato Questo perché ragazzi Questo per il semplice fatto Che Tutto quello che stiamo Che stiamo appunto Vivendo su questo nuovo universo Non è altro che un residuo Dello scorso universo In quanto è appunto Nato Da Quello che era L'universo Di Tugger Toten Blood of the Dead E tutta la vecchia E ter story Per quelli che hanno visto Appunto la set tv dark In dark c'è questa teoria Per il quale Un universo Ha un destino segnato Quindi non si può tornare Indietro nel passato Per modificarne appunto Le condizioni E quindi modificarne Poi il successivo futuro Ma se una cosa è scritta Prima o poi Nella vita dovrà avvenire Perché la storia È già stata scritta Dal fato Secondo me Gran parte della storia zombie Sarà incentrata Su questo argomento qua Ora Controllando a parlare Delle novità Che sono state presentate Nel trailer Abbiamo potuto vedere che Per l'appunto La nuova storia zombie Ricomincerà nuovamente Da Nack the Runtotten Però è Nack the Runtotten Che fa semplicemente Come contorno Su quella che è la vera mappa Ovvero D-Machine È molto particolare Questa mappa Sia per la forma Sia per la struttura Perché sembrerebbe Che appunto Sia distribuita Su tre piani Un piano superiore Un piano intermedio Un piano sotterraneo Nack the Runtotten Appunto È uno dei tanti Punti Di questa Grande mappa Che sembra veramente Molto grande Motivo per cui I teaser Che erano stati Per l'appunto Cioè I leak Che erano stati Mossi Qualche tempo fa Riguardo il fatto Che questa nuova mappa Sarebbe dovuta essere Transit remake Sono stati per l'appunto Smentiti Come io avevo Per l'appunto Predetto Tra parentesi Perché avevo specificato Il fatto che Non doveva Assolutamente Eserci bisogno Di confermare Qualcosa Che non è stato Confermato Perché per l'appunto Alla fine Si è trattato Non di Transit Ma semplicemente Di una nuova mappa Completamente nuova Con Nacca 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 Oppure visto Che non ci sono Dei veri e propri Patagonisti Intorno di questa storia Ma ci sono diversi Personaggi giocabili Anche dalla campagna Si è visto Weaver Nel trailer Nel Cinematic trailer Si è visto Woods Si è visto Alcuni personaggi Nella nuova campagna Di Cold War Personaggi del multiplayer E via dicendo Come appunto Detto Craig Huston Nel Durante Il video Di 8 minuti Che è uscito Nel canale youtube Del Reveal Craig Huston Ha annunciato appunto Che lui Ha intenzione Di ricominciare Per come ha cominciato Nel 2008 La vecchia storia zombie Sappiamo che World at War È coincido con Dragon Totten E Verruck Che sono state due mappe Che come protagonisti principali Avevano dei soldati Completamente anonimi Non parlavano Parlavano poco Non avevano un vero E proprio Spessore all'interno Della trama E successivamente Su Shinonuma Sono stati introdotti Quelli che erano I personaggi principali Della storia zombie Ovvero Riktof E Nikolai Damsay Takeo Quello che penso io Personalmente È che probabilmente I personaggi principali Della storia Vengono introdotti Successivamente E che quindi Per le prime mappe Cercheranno di fare La stessa cosa Che fu fatta Appunto tempo fa Con quella che è stata Nakedron Totten E Verruck Ovvero Inizia la storia zombie Con personaggi Che comunque Hanno un carattere Una voce Parlano Reagiscono A quello che succede All'interno della mappa Ma che nella storia Non hanno appunto Ancora Una valenza Veramente importante Un'altra cosa Di cui ci tengo a parlare Adesso parliamo Un pochettino Di quella che è La storyline Io ho diverse teorie Riguardo quella che sarà La storyline Ve ne appunto Esplico un paio Di queste La prima di tutte È che per l'appunto Come abbiamo visto Nel trailer Questa ragazza Che sta venendo Questa impressione Che parla al telefono È sicuramente Ragazzi E ci metto Una mano sul fuoco Samantha E ora vi spiego il motivo State appunto vedendo Se avete visto il trailer Avete sentito pure Quello che è stato detto Si è masticato Un pochettino D'inglese Quando lei appunto Parla al telefono A rispondere Weaver Personaggio storico Della campagna Di Black Ops Che dice Sam Che cosa hai fatto Ora Per quale motivo Weaver ha detto Che cosa hai fatto E soprattutto Perché l'ha chiamata Sam È semplicissimo Ragazzi Il semplice fatto Che Sam È l'abilitivo di Samantha Essendo lei tedesca È normale Che abbia Questo accento Così marcato E tedesco E per lo più Quel che cosa hai fatto Era appunto Perché Weaver Immaginasse Che ad aver riscatenato L'apocalisse zombie Del precedente universo Sia stata lei Perché le ha ancora Dite nei poteri Insieme ad Eddie Infatti sono gli unici Due sopravvissuti Del vecchio Eder Universe Quindi è l'universo Di Tugger Toten Sono gli unici due Che sono rimasti Appunto in vita Dopo che è stato Estirpato completamente Quell'universo Quello che io penso È che La storia zombie Sia incentrata O su un Dualismo Tra bene e male Nel quale il bene Rappresentato da Samantha E il male da Eddie Perché io ho Questa cosa in mente Perché sappiamo benissimo Che Rick Toffen Soprattutto Sul periodo Che va da Black Ops 1 A Black Ops 2 Nella storia Lui aveva Intenzione Di prendere Il potere assoluto Degli zombie Quindi diciamo Che lui è sempre stato Personalmente Come persona Un individuo Molto assetato Di potere Quindi questo Secondo me Significa che Anche su questa storia Essendo lui comunque Un antenato Di Rick Toffen Del Rick Toffen Originale Penso proprio Che lui Sia diventato Come la sua Controparte Nel vecchio universo E che quindi Lui adesso Voglia prendere Il potere Di un pochettino Tutto E questo Di potere Per l'appunto Gli face scatenare I suoi poteri Che condivide Appunto Con Samantha Fendo scatenare Un apocalisse zombie Nuovamente Nel nuovo diverso Come appunto Detto prima C'è questa cosa Che se Un universo È segnato Quello che Deve accadere Accadrà per forza Ed essendo Un residuo Di un vecchio universo In cui L'epocalisse zombie Era inevitabile Anche in questo universo Ci sarà per forza Un'epocalisse zombie Quello che sarà Questa storia È un sequel Della vecchia Storyland Della other story Però Questo specificato Sarà tutto Un pochettino Diverso Tutto un pochettino Rimescolato È un universo Che è molto simile Al precedente Con Delle Dei eventi storici Completamente diversi Motivo per cui Tutto quello che vediamo È simile Ma diverso Il juggernaug Non è più Quello di un tempo I perk Non sono più Quelli di un tempo Il paka punch È decisamente diverso Da quello di un tempo I personaggi Non sono più quelli E vi dicendo Questo perché Ragazzi È normalissimo Se è una copia Dell'universo Ma con eventi storici Diversi Le cose sono successe Ma in modo diverso In periodi diversi È fatta Da persone diverse Questo ha mutato Profondamente Quello che è stato Alla fine La discussione Cioè Alla fine La presentazione Generale dell'universo Sia per quanto riguarda Forme Che per quanto riguarda Aspetto L'altro pensiero Che mi sono fatto io È che Durante Se la cazza infine Di Tagder Totem Nel quale Eddie E Samantha Camminano Nell'etero scuro A ricerca appunto Della luce Del nuovo universo All'interno Del barco Per arrivare Nel nuovo universo Vi fosse anche Un residuo Magari di Creature apoticon O qualcosa del genere Che si è infilata Di nascosto Dentro appunto Il nuovo universo E che Aspettando Il momento perfetto Ha deciso appunto Di uscire fuori Allo scoperto Sappiamo peraltro Che la storia zombie Sarà principalmente Basata Come si è letto appunto Dalla presentazione Dal rissunto Da battle.net Su un esperimento Durante La guerra fredda Andato a male Molto simile Per l'appunto A quello che è stata La vecchia storia Questo Secondo me Conferma il fatto Che Essendo un residuo Del vecchio universo Le cose sono Destinate a succedere Le mie ture Riguardate la storia Sono queste due O che Si tratterà tutto Di un Eddie Contro Samantha Tra il bene e il male O che per l'appunto All'interno del varco Per entrare nel nuovo universo Avvierà un residuo Di Apoticon Che si è Intromesso All'interno del nuovo universo Destabilizzandolo E facendo ritornare L'apocalisse zombie Non so bene Come si svolgerà In futuro Questa storia Ma questo secondo me Sarà l'incipit iniziale Per cominciare Tutto da capo Devo essere sincero Ragazzi Sono molto contento Di questa scelta Per l'appunto Della nuova storia Perché Nonostante Sia essenzialmente Un sequel Tra parentesi sequel Non è strettamente Collegato al passato Perché è proprio Una zombie Completamente Una storia Completamente nuova Scritta da capo Però comunque Con Un pizzico Accenno al passato Così è molto meglio Che rivedere Per l'appunto Un continuo Inutile Come quello Che magari potrebbe essere Sato Che magari Si sarebbero inventati Che ne so Che Nicolai Tornava in vita E rispuntava Nel nuovo universo Io personalmente Viesco più Questa cosa Una cosa del genere Piuttosto A vedermi Tornare nuovamente Tutti i vecchi personaggi Perché Si frammenta In nuovo l'universo Il tempo Il conorium Cambio E via dicendo Preferisco di gran lunga Questa nuova cosa Le aspettative Sono veramente Molto alti Non vedo l'ora Che esca il gioco Mi ha fatto ovviamente Una bellissima impressione Nonostante Ci fossero Le killstreak All'interno di zombie Che io non capisco Non capirò mai Nonostante Per l'appunto Comunque La mappa iniziale Come struttura Mi faccia impazzire A me visivamente Però Questo Dovremmo giudicarlo Soltanto quando giocheremo Al gioco Personalmente Sono molto contento Che abbiamo scelto Questa cosa Sono molto contento Che troviamo i perk E soprattutto Non vedo l'ora Che rive il 13 novembre Per l'uscita di Black Ops Cold War E successivamente Il 19 novembre Per poterlo giocare Sul PS5 Detto questo ragazzi Per questo video Penso che sia tutto Io ho parlato In modo molto riassuntivo Tutto quello che Ci è stato mostrato All'interno del trailer Io spero Veramente Che vi possa essere Piaciato questo video Vi invito nuovamente A iscrivervi su Twitch Vi aspettiamo in live Spesso Trovate comunque Quando saremo in live Sul nostro Profilo Instagram Chiacciaco Zombie Sita Anche questo qua In descrizione E ci vediamo al prossimo video Lasciate un like Un commento Iscrivetevi Bella a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti